Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli tra venerdì e domenica ha controllato tra il capoluogo e la provincia 1.619 persone a attività commerciali, 162 le sanzioni complessive non solo anti-covid ma anche per spaccio di sostanze stupefacenti con drabbando di sigarette e gioco d'azzardo. I controlli hanno riguardato soprattutto Napoli città a seguito delle decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in particolare via Toledo, il Lungomare, via Partenope, via Chiaia, i Decumani, controlli anche a mare nelle acque antistanti Mergelina e Santa Lucia. Più in dettaglio il dispositivo composto dal gruppo pronto impiego e dal primo gruppo integrato dai rinforzi delle compagnie di Torre Annunziata e Giuliano ha portato alla contestazione di sanzioni in città tra i quartieri Monte Calvario, San Ferdinando, Chiaia, Posilipo e Scampia, a carico di 34 tra persone senza mascherina, in strada senza vale di motivi o fuori dal proprio comune di residenza o domicilio. I baschi verdi, allertati da alcuni cittadini nel corso dei servizi di ordine pubblico, hanno fermato in via Toledo un cittadino sudanese che spintonava i passanti, molestandoli e insultandoli. Lo stesso è stato denunciato per immigrazione clandestina, violenza e resistenza pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per violazione alla normativa anticontagio. Anche nelle immediate adiacenze dell'area portuale il secondo gruppo ha sanzionato 48 persone sorprese in strada senza comprovati motivi fuori dal proprio comune di residenza o durante il coprifuoco. Altre sanzioni anti-covid a persone ed esercizi commerciali anche in provincia. In particolare la compagnia di Pozzuoli, al termine di un controllo anti-covid avviato su strada e proseguito con una perquisizione domiciliare, ha tratto in arresto a Licola due coniugi trovati in possesso di quasi un chilogrammo di hashish, 95 grammi di cocaina e di oltre 600 grammi di marijuana, già suddivise in dosi pronte per lo spaccio. La compagnia di Torre Anunziata, dopo aver notato un'autovettura che alla vista della pattuglia aveva effettuato una manovra repentina, ha tratto in arresto all'altezza del casello autostradale di Torre Anunziata Sud un 31 N di nocere inferiore, Salerno, trovato in possesso di 8 grammi di cocaina. Infine a Nola le fiamme gialle hanno sequestrato presso un bar delle apparecchiature telematiche illecitamente collegate alla rete, nonché ricevute di gioco per 265 euro attestanti l'avvenuta attività di scommessa. Denunciato il titolare per raccolta clandestina di scommesse, oltre che sanzionato per violazione anti-covid unitamente ad un cliente mentre effettuava la giocata.